ragazzi ma che partita ho visto no scusatemi no scusatemi no datemi un pizzicotto perché sto sognando ragazzi no 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 non ci voglio credere a cosa ho visto non sono un alieno perché sono verde ma sto vedendo sto tirando i piedi al bari ovviamente perché se il bari dovesse perdere e dovesse perdere oggi contro l'ascoli questa giornata la ternana sarebbe prima ma io sono scioccato perché siamo una squadra che è brava è forte e noi ci crediamo perché davvero nessuno ha mai pensato a noi come comunque una squadra tosta e lo stiamo dimostrando sul campo ma non parlo per per la serie a perché sei chiaro come dice lucarelli come dice bandecchi e come aggiungo io è quasi un insulto parlare di promozione alla decima giornata di serie b è davvero un obbrobrio una blasfemia per il calcio perché ancora manca parecchio però io esco da benevento con in testa un'altra idea ovvero quella di far paura a molte squadre perché non abbiamo battuto squadre scarse perché ok l'abbiamo il piazzamento in classifica del benevento del perugia del parma del del cittadella e del palermo ma sono tutte squadre che a parer mio e a parer di molti anche un po per ignoranza ma non so che dire niente la davano più forte rispetto alle nostre ferie e questa è una grandissima soddisfazione perché dimostra che sul calcio nel gioco del pallone il valore si confronta sempre in campo e non fuori mamma mia ma io sono qui per dire mamma mia a parte ragazzi non voglio fare io ragazzi stravedo per cannavaro per benevento per tutto quanto per la campagna e tutto quanto però il benevento secondo me ha fatto una partita terribile 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 perché secondo me a parte i due gol o li soffiavi facevi sul collo sulla schiena stavano là per terra tre ore parte il gol fortuito e ci sta perché nel calcio non conta quanto è fortuito il gol basta segnare perché il primo gol è chiaramente una botta di culo nonostante Tello abbia tirato bene il pallone prima sbatte contro il palo e poi carambola sulla schiena di Anarilli e che non può nulla il pallone entra e questo è fortuito il secondo gol il secondo gol sul rigore di quello scemo della cumina la cumina partiamo partiamo dal rigore dal fatto che non era rigore partiamo da questo presupposto perché secondo me non è rigore perché pallone entra nella di rigore e Anarilli da portiere il ruolo del portiere qual è non far prendere gol cosa deve fare in quell'occasione il portiere deve uscire cercare di prendere il pallone evitando il più possibile il contatto con l'attaccante gli Anarilli è uscito tra l'altro la cumina ha pure perso secondo me il contatto col pallone aveva perso il pallone tra i piedi esce si butta e colpisce il pallone poi però ovviamente non si può smaterializzare come fa il contatto tra lui e la cumina c'è stato e quello parere mio non è rigore perché ha toccato la palla e ha toccato subito dopo il giocatore se avesse toccato solo il giocatore il pallone fosse andato più avanti e Anarilli avesse toccato l'attaccante secondo me sarebbe stato rigore ma questo non è rigore l'hanno pure chiamato al VAR e questo stupido di arbitro ha consultato il VAR e ha detto che era rigore va bene poi se il primo tempo va un po' così sempre là per terra e chi sa là per terra e chi muore a sinistra chi si lamenta a destra, chi quell'andro che fischia pure se applaudo le mani casini vari inizia il suo tempo e noi vogliamo entrare in partita io sinceramente il primo gol non ho capito perché l'hanno annullato perché calcio d'angolo, parte di Palumbo che scodella a pallone e mezzo testata di Donnarumma e gol del 2 a 1 io inizialmente ho detto fuori gioco, hanno detto fuori gioco, fuori gioco stavo proprio sgridando allo scandalo, ho detto questo arbitro che vuole che cosa gli hanno promesso, i pesci, le cozze da Benevento che gli hanno promesso poi però si è visto anche dal replay che il pallone era uscito dal perimetro di gioco sul tiro, fatto una diagonale fuori al campo e poi è rientrato ok, noi comunque poco dopo siamo subito entrati di nuovo in possessorazione con un calcio di munizione e è arrivato il gol, o angolo non ricordo, il gol di Sorensen Paleari inizialmente, che ha fatto questo? Porco 2 Porello si è sfonnato dalla capoccia Porello comunque dicevo, Paleari ha fatto una bella parata, ha smanacciato il pallone e poi alla fine la testata di Sorensen per il 2 a 1 poi il 2 a 2 lo segna con una bellissima azione Pettinari Stefano Pettinari che alla prima palla toccata alla prima azione fatta tutto quanto, al primo respiro in Serie B in questa partita tirato di sinistro, gol alla Stefano Pettinari e io gli ho fatto, GATO, GATO e dopo da lì comunque noi abbiamo fatto un po' di errori ho avuto tanta tanta paura e vi dico la verità, ho avuto tanta tanta paura perché ho visto, no 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 ho pensato, questo è quel game è quel game che tu la recuperi poi dopo fai gli errori dopo si stava per scaldare stava per entrare proprio il Folletto Faglietti il Folletto stava per entrare calcio di punizione tra Mischi e Vari palla arriva al limite dell'area di rigore per Di Tacchio che tira un pallone bellissimo Paliari non lo vede anche partire e 3 a 2 Ternana che partita ragazzi adesso sto tirando sto gufando il Bari perché dovesse finire così noi attualmente siamo primi se dovesse perdere il Bari cosa che non sta succedendo al quindicesimo minuto 0 a 0 noi andiamo siamo primi in classifica non è tanto perché ripeto non ditene non mi state a parlare sotto ora andiamo in serie ora stiamo così si va in serie perché porco Dio vi blocco vi blocco vi blocco a voi tifosi della Ternana vi blocco vi blocco ma non è cattiveria ragazzi perché dopo magari vi offendete quando non ci qualificheremo neanche ai playoff quando sarà marzo aprile maggio quindi è per questo che io dico un attimo per parlare di serie un attimo perché neanche 15 partite sono iniziate noi subiamo un attimo però è bello almeno stare una giornata anche questi se dovesse durare un'ora la Ternana in primata di classifica proprio per i perugini è proprio questo è bello noi siamo primi voi siete ultimi noi siamo primi voi ultimi è solo questo il bello ragazzi scusate i perugini ma questo è il bello perché voi ci sfottevate tanto ma noi almeno per un'ora per mezz'ora per quante primi siamo stati voi siete ultimi e quel pirla del vostro allenatore sta ancora dicendo che vi portere in serie voglio vedere ok voglio vedervi ah pensavo segnasse l'ascoli invece comunque scusatemi un po' la frenesia ma è la quinta partita che la Ternana vince e voglio fare un appello abbiamo vinto 5 partite le abbiamo vinte 5 meritandole tranne quella a Parma ma quello che dicevo prima della fortuna dicevo tutte queste cose qua però non è questo il fatto il fatto è che nessuno magari dono la nostra forza anche se dovessimo arrivare a Plyov e perderli subito abbiamo avuto la consapevolezza di dire abbiamo fatto paura in quelle 5 partite quelle 10 partite nonostante siamo partiti male con il Modena che abbiamo perso 4 a 1 con il Modena davvero se ripensa a quella partita mi mangio le mani mi mangio le mani finché davvero porco 2 non non sanguino però posso avere la consapevolezza di aver fatto paura almeno una volta ho fatto paura alle squadre di serie bianche alle big e posso dire che per un'ora sono stato primo sono stato primo e per un po' di giorni sono stato secondo ho visto i playoff poi anche se non ci dovessimo qualificare i playoff posso dire che siamo stati in zona playoff posso dire che abbiamo fatto paura però nonostante come dovesse andare la stagione diciamo le corna anche se dovessimo andare in serie a sarei contento anche se non ci dovessimo andare perché posso dire che è iniziata bene perché nonostante abbiamo avuto solo due sconfitte un pareggio tre tutte vittorie nonostante la brutta sconfitta io attualmente il Bari la squadra mi fa paura ma se io penso chi segue la serie b non sto facendo questa domanda a chi magari non la segue e pensa che stravincerà il Cagliari stravincerà il Genoa e il Venezia perché parla soltanto perché pensano che siano le neo scese dalla serie a quindi sono le più forti oppure chi pensa magari dico così al Palermo perché una squadra che in passato stava in serie a se adesso parli con uno che segue il calcio e segue la serie b e ti dicono qual è la squadra che ti fa più paura secondo me ti rispondono Ternala e Bari perché secondo me attualmente noi facciamo paura nonostante dovesse andare di merda la stagione ma noi attualmente stiamo facendo paura a me mi piace preferisco una stagione così godermela questa stagione magari sì possiamo puntare playoff perché possiamo però da subito ma posso avere il senso di non posso posso avere questo senso di aver fatto paura a squadre come Benevento come Palermo adesso avremo il Genoa voglio vedere come cosa faremo e non come l'anno scorso che abbiamo fatto paura le ultime giornate e pretendavamo di andare in Serie A perché abbiamo fatto paura nelle ultime giornate quindi quello che penso io meglio una stagione come questa che ti godi che ti godi piano piano le partite perché comunque il campionato sono 40 partite quindi che magari preferisco godermela così essere prima una giornata un'ora far paura a diverse squadre godermi i vittori come queste super rimonte sin da subito non ve menate che magari arrivare ad aprile che te le vinci tutte e vuoi arrivare ai playoff e non ci arrivi però hai fatto schifo perché abbiamo fatto schifo l'anno scorso a Cosenza abbiamo fatto schifo ad Ascoli abbiamo fatto schifo a Lecce abbiamo fatto schifo dappertutto abbiamo fatto schifo a Perugia abbiamo fatto schifo a Frosinone quindi quello che dico io quest'anno abbiamo fatto schifo solo a Modena perché comunque con l'Ascoli due call fortuiti fortunati sono stati due call che hanno sognato di testa e poi era il calcio di agosto la prima partita quindi l'unica partita che abbiamo giocato di merda Cosenza sono stati sfortunati che abbiamo pareggiato però va bene l'unica partita che abbiamo giocato di merda è a Modena e a me questo inizio mi piace di più perché io mi sto godendo questa serie B questa bella serie B piena sta colma di squadroni perché ci sono squadre perché davvero Cagliari sono fortissime me la sto godendo perché posso dire oh che bello ho battuto il Benevento da 2 a 0 a 2 a 3 mamma mia che bello ho battuto il Parma sempre da 2 a 0 a 2 a 3 che bello che vinto il derby 1 a 0 che bello vinto col Palermo 3 a 0 ho capito che vintendo quindi se no è meglio godersi una stagione come questa e non voglio parlare di serie A di playoff perché comunque stiamo giocando bene stiamo facendo power poi quello che sarà si vedrà perché può essere anche in giusto non facciamo schifo però non voglio ecco non voglio parlare subito di serie A serie B e di Champions League di Europa League perché voglio godermi la stagione piano piano adesso siamo primi siamo primi possiamo essere primi per un'ora soltanto per un'ora ma io posso dire ma che bello in quell'ora io sono stato primo in serie B tra squadroni questo voglio dire quindi 10 anni non mi parlate di serie A io sono contentissimo per la vittoria sono contentissimo per tutti una bella prestazione della mia squadra e mi è piaciuto anche vedere Cannavaro perché belli ricordi anche se io avevo soltanto un anno ma qualsiasi chifoso di calcio sa cosa ha fatto Cannavaro nel mondo del calcio italiano e noi ci vediamo per il giorno del mio compleanno che penso sia difficile che vedrò la partita 100% il mio compleanno e io speriamo che anche faremo bene anche con Geno speriamo davvero tantissimo e guidiamoci questa serie per come sta andando bella